sinistra 2 ritarda l'ultimo piri chiude scivola chiude scivola destra piena 50 sempre sulla destra stacca per tormento destra 2 fine mazzo dentro sinistra 4 stretta scivola destra 2 dentro 50 2 dentro 50 sinistra 4 al palo destra 4 dentro destra 4 dentro 30 sinistra 4 dentro 5 dentro al piri destra 3 100 100 sinistra 3 dentro 30 non l'inchiodare ai paletti tornante destro 2 dentro fallo dentro perfetto così 50 destra piena per sinistra 4 per destra 5 in in sinistra 4 dentro 30 ritarda poco tornante sinistro 2 tieni sinistra destra 4 meno dentro 4 meno dentro destra 6 in sinistra 6 destra 3 meno apre e tieni sinistra al relli tornante destro 2 ritarda poco dentro eh tieni buttalo dentro al secondo piri sinistra 3 più dentro 50 sinistra 4 sinistra 4 al palo dentro sinistra 4 al palo dentro 100 destra piena 50 allunga la staccata all'erba destra 3 sinistra 2 ritarda poco eh sinistra 2 ritarda poco 100 100 sinistra piena al muretto tornante destro 2 tornante destro 2 sinistra piena 100 destra 4 poco dentro destra 4 poco dentro albini sinistra 4 più 2 tempi ritarda poco 2 tempi ritarda poco 30 sinistra 2 al paletto rosso dentro destra 5 albini rosso diventa 3 dentro 100 100 destra 4 taglia subito sinistra 2 destra 5 ancora destra 5 ancora destra 5 sinistra 5 sinistra 4 larga albini blu dentro larga albini blu dentro sinistra piena bravo sinistra 4 sinistra 5 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 sinistra 5